La delega metromontana per me è innanzitutto una sfida, è una delega nuova di questa amministrazione che pone l'attenzione sui legami che già esistono ma che devono essere rinforzati tra Cuneo e le nostre valli. Quindi ho pensato che per prima cosa di dover mappare il territorio per capire a che punto siamo, qual è il punto di partenza a seguito del quale agire creando nuove relazioni e rinforzando quelle già esistenti. Cuneo è una città circondata dal parco e dalle montagne quindi esistono già relazioni, alcune delle quali consolidate nel tempo e altre che possono essere realizzate perché con la delega metromontana credo che questa amministrazione abbia voluto porre l'attenzione sulla necessità di agire come sistema, come un sistema territoriale in cui si cresce insieme. Il festival penso sia la prima azione che possa essere vista come metromontana di collegamento di Cuneo con il territorio circostante e questo è stato un po' il filo che abbiamo seguito nel realizzare il festival. Devo ringraziare a questo proposito tutte le realtà territoriali che si sono prestate a questo disegno a partire dall'UNCEM, dalla provincia, attraverso la provincia abbiamo avuto contatti con le unioni montane, i CAI, i parchi che ci circondano e attraverso questo primo contatto siamo riusciti penso e mi auguro a realizzare un festival condiviso dove al centro abbiamo messo le nostre montagne.